Gnomeo e Giulietta si trasferiscono in un altro giardino. Via libera! Forse perfetto non è, però è nostro. Pensa alle avventure che vivremo qui. Guarda che è una piscina! Tutto bene! Puzzetta! Mamma mia, che schifo! Hai forro! Ma fatenei a guzzi! Umani in arrivo! Potemposa! Dovevano vivere per sempre felici e contenti. Ma quando il loro mondo è in pericolo... Giulietta, gli gnomi sono scomparsi! C'è un solo gnomo da chiamare. Ehi, che pazza, pieno coach! Sherlock Gnome, supportatore degli gnomi da giardino. Vuoi dire, a parte quello che hai appena rotto? Root? A chi c'è Root? Ma non c'è la cap! Nel 2018... E tu ti faccia, Watson! Io mi sono in grave pericolo! Dal regista di Kung Fu Panda. Non facciamoci sentire, ma entro domani sera ci faranno a Kochi. A Kochi? Mi ha detto che domani ci fanno tutti a Kochi! Sì! Preparati a scoprire. Bravo! Attraverseremo quel fiume. Ci serve una nave. Niente nave, Sherlock. Un mistero ignominabile. Bene, il prossimo indizio è nel parco. Daci indicazioni! Segui la riga blu a terra finché non troverai la grossa puntina rossa. Ocho, la punta è appuntita! Tutti sotto copertura. Andiamo. Due passi avanti. Ui! Ferma! Ho detto ferma! Non ero mai stata neanche un po' il popò di uno scogliattolo. Silenzio, popò. Sherlock Gnomes! Non è così che gli scogliattoli scuotono il popò. Gnome tu? Ce lo puoi far vedere? Guarda qua! Guarda qua! Guarda, guarda. Muove il popò e non mi piace neanche un po'.